Nello sforzo per dimezzare gli incidenti stradali entro il 2030, come chiesto dall'Unione Europea, l'autovelox va utilizzato nel modo più appropriato e l'intenzione con cui il prefetto di potenza, Michele Campanaro, ha annunciato l'avvio della revisione della mappa delle tratte stradali su cui è possibile questo tipo di accertamento. La mappa attuale risale a lontano 2010, ma da allora molto è cambiato a partire dalle condizioni delle strade, ma non solo. C'è una direttiva del 2017 che ha fornito ulteriori elementi che consentono di attualizzare il quadro della situazione delle strade a maggiore pericolosità e questo è il motivo per il quale ho ritenuto che, essendo il nostro provvedimento antecedente rispetto a quello del 2017, occorre procedere quindi all'aggiornamento. Il rischio è che ci siano accertamenti dove non ce n'è bisogno e manchino dove servono o possano essere solo uno strumento per fare cassa. Per questo la decisione del prefetto è accolta con favore dagli automobilisti. Sicuramente una buona notizia quando l'autovelox è garanzia di sicurezza per chi percorre le strade. Non deve essere uno strumento di vessazione per l'automobilista. Gli accertamenti sulla velocità devono rientrare in un più ampio sforzo per ridurre gli incidenti che al momento nel potentino pare non dar frutti. Rispetto al 2019 e hanno preso a riferimento da Bruxelles, l'anno scorso sono aumentati tanto gli incidenti da 516 a 541 che i morti da 16 a 25. E resta alto anche il numero dei feriti, 748.